eccoci qua buongiorno a tutti pirlo a plombe niente copia e colla avete visto l'entusiasmo il quale ha detto un contento gattuso ha detto impressionante così ma impressionante comunque quando l'ho visto gli spogliatori ha preso l'olio di prima assagina di insorzio ho pensato passare a questo gruppo eccolo la ma tu fai il fantacalcio le nostre asse durano ogni volta una decina di ore non sto scherzando ma come sei arrivato lo scorso anno e sono arrivato tra gli ultimi ti hai fatto un roso molto grave lo sai quella canzone che hai fatto no? si l'ho fatto hai fatto una canzone che funziona e quella canzone ti permetti se alla fine passa in radio e questo secondo me non si fa è un male adesso non lo faccio più secondo me se la Lazio vince un trofeo una bella sfida sarebbe mettere un giocatore della Lazio nella prossima canzone come parola sì certo certo ci può stare ci può stare vorrei che Enzaki stesse con noi a vita per me è la natura più preparato e più laziale che si possa avere in questo momento no ma sono d'accordo a me piace moltissimo poi come gestisce i ragazzi è fantasma e dietro comunque il nostro presidente monumentale è rosa di Laziali e di personaggi ci ho visto di Cagno e di Serascai stupendo è fighissimo e qualsiasi cosa dica anche quando è un complimento lo dice con grande chierezza cioè comunque mettendo McKennie davanti il radio comunque permette una difesa di respirare e giocare con serenità comunque si dice sempre io mi immaggia che di Cagno secondo me si prega a padre nostro che sei da Cagno cioè io lo faccio sempre però è fortissimo che lui a Bologna cosa mi dice? 1 1 Benevento Inter? 2 Udinese La Spezia? 1 ciao B ciao Tommy grazie ciao 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 a l'uno di prossimo ciao